Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio XE sulle regionali e sardine per la trasmissione carta bianca di Enrica Berlinguer su Rai 3 del 28 novembre del 2019. Nei giorni scorsi il Movimento 5 Stelle, dopo aver effettuato una consultazione sulla piattaforma Rosso, ha deciso di presentare i propri candidati alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Il 37% non condivide questa decisione. Il 33% si dice d'accordo, il 30% non sa. Nel dettaglio hanno detto sì il 61% dei grillini e il 30% dei dem. Il giudizio negativo è arrivato rispettivamente dal 23% e dal 44%, valutazione non espressa dal 16% e dal 26%. Nelle ultime settimane ci sono state diverse manifestazioni in piazza, organizzate dal cosiddetto Movimento delle Sardine, in opposizione alla Lega e a Salvini. Il 41% non condivide l'iniziativa, il 37% è favorevole, il 22% non si schiera. Infine il 34% ritiene che siano ininfluenti per il Carroccio. secondo il 25% lo indeboliscono, per il 21% lo rafforzano. Il 20% non sa. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, non comporta nessun costo, ma potete con quell'iscrizione partecipare nella community del canale, a tanti sondaggi, mettere la vostra preferenza e lasciare anche un commento. Siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie dove trovate tutti i video che sono presenti in YouTube, li potete condividere con chiunque voi vogliate in internet e anche fuori da internet. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata. Arrivederci.